Il giallo ha i semafori in presenza di veicoli che sopraggiungono a 50 km orari come appunto nei centri abitati e previsto che duri tre secondi. Tre secondi sono veramente pochi e può accadere così che se non ci si arresta per tempo si attraversi l'incrocio con il semaforo rosso. Per pizzicare quanti bruciano i semafori di giorno e ancor più di notte dove la percentuale dei distratti, diciamo così, aumenta vertiginosamente, a Fano c'è già un impianto di telecamere in uno degli incroci più complessi della città, quello del Lido, dove sono stati installati gli occhi elettronici del T-Red che rileva istantaneamente ogni singola infrazione. Ora un altro incrocio cruciale della città, quello di via della Bazzia verso la superstrada e di fronte in via Papiria, avranno presto gli occhi di nuove telecamere per chi passa col rosso. Questa mattina sono iniziati i lavori di installazione ad opera di un'azienda specializzata bolognese. Sì, abbiamo cominciato i lavori, dovremmo finire fra tre o quattro giorni, mettiamo anche qui due telecamere, uno rivolto alla direzione verso l'autostrada e uno sulla via Papiria che prende la corrente opposta e dovremo tenere sotto controllo tutta la viabilità ovviamente per reprimere il passaggio col rosso che è ben tristemente famoso come principale causa per i sinistri stradali. Pertanto noi non è vero che mettiamo queste macchine, lo ribadisco ufficialmente, solo per fare cassetta. Non ci interessa fare cassetta, non ci interessa la viabilità sicura. Approfitto per dire che il passaggio già è interdetto con la luce gialla, al giallo ci si deve fermare, non si deve avanzare il più possibile sperando che non si accende il rosso. Al giallo, dice il nuovo corso della strada, ci si deve fermare. A meno che io non sia già in mezzo all'incrocio, quello è ovvio, se sono in mezzo all'incrocio quando arriva il giallo devo finire, ma quando sono prima del semaforo e mi arriva il giallo mi devo fermare. La norma dice questo, articolo 41, ci si deve restare al giallo, al rosso si sta fermi. Quando vado nelle scuole a fare l'educazione stradale, lo ribadisco, il codice è cambiato, la sanzione per il giallo e per il rosso ora è uguale. Se non lo so abbiamo visto, c'è una macchina che praticamente passa.